Per cui sarebbe interessato andare a vedere e dire ai propri genitori. Si viaggiare non è mai troppo presto per diventare turisti responsabili. È un progetto pilota destinato ai ragazzi delle scuole elementari, quindi le scuole primarie e le scuole medie, per cercare di insegnare sin da piccoli ai bambini, che sono i viaggiatori di adesso e saranno i viaggiatori del futuro, a viaggiare in modo consapevole, responsabile, quindi ad informarsi, a essere curiose. Cosa che nel tempo si è persa e se non vogliamo che il viaggio diventi un'esperienza vuota, solamente estetica, è necessario educare e secondo noi è importante partire proprio dai bambini più piccoli. Quali sono gli elementi principali che durante questa lezione, laboratorio, vengono forniti ai bambini? Si tratta di laboratori che durano un'ora, un'ora e mezza, che si tengono all'interno della biblioteca appunto per tirarli un po' fuori dalla scuola e farli avere un approccio un po' meno scolastico e cerchiamo di coinvolgerli a seconda dell'età attraverso tutti quanti i sensi, quindi facciamo delle esperienze musicali, cerchiamo di capire, di mostrare loro che la musica è un linguaggio universale, per cui ci si può capire, basta essere un po' attenti e curiosi, il fatto di toccare degli oggetti provenienti da altri paesi, da altri contenenti, soprattutto giocatoli vista la loro età, capire che in altri paesi magari giocano ancora con giocatoli di legno, che durano molto di più e che magari sono anche più divertenti di quegli oggetti di plastica che magari qui abbandonano dopo cinque minuti. Poi facciamo vedere dei video sul turismo responsabile, in realtà sono dei cartoni che in modo molto semplice e diretto però tracciano un po' la linea fra quello che è il viaggiatore classico o quello che siamo abituati a vedere in giro, magari distratto, un po' meno consapevole, che sfrutta le risorse di un paese senza rendersi conto magari delle conseguenze che comporta, invece il viaggiatore è quello che dovrebbe essere, che loro in realtà sanno come dovrebbe essere, che però certe volte, un po' perché pigrizzano, un po' perché andiamo a cercare la comodità, ci dimentichiamo di mettere in pratica. Ecco, sono dei laboratori che alla fine si concludono con un disegno sulla loro esperienza già fatta su quello che vorrebbero fare, perché in un mondo in cui è sempre più facile fare dei video, delle fotografie digitali che magari scattiamo, poi mettiamo nel computer e dopo non guardiamo neanche più, è bello ritornare al disegno, a dedicare il tempo nel ridisegnare qualcosa, nel mettere su carta un'esperienza, un'emozione vissuta che ci rimarrà nel tempo, che anche quando magari andremo a rivedere fra 10-20 anni, rivivremo come il momento in cui l'abbiamo vissuta. Quindi, secondo me, il discorso è proprio quello, cercare di prepararsi prima del viaggio, vivere l'esperienza con curiosità, con intensità, per tornare più ricchi. Partecipiamo a più progetti che organizza qui la biblioteca, questo progetto in particolare, invece ci è sembrato particolarmente interessante, in quanto i bambini oggi viaggiano parecchio, per farli dei viaggiatori, dei turisti responsabili è una cosa molto interessante e essenziale. Anche in classe ne parlate del viaggio? Sì, spesso, perché portano delle esperienze, viaggi, perciò parlare e allargare queste nozioni è molto importante. I risultati di questo progetto, di questa lezione che avete seguito oggi, in classe come li userete? Li useremo sempre in modo interdisciplinare, in varie materie, leggendo varie favole o racconti di altri paesi, anche perché abbiamo un progetto molto importante sull'intercultura, cioè interscambio, conoscere altri modi di vivere, per conoscerci e saper vivere insieme. A me è piaciuto quando abbiamo visto i film, quando ci ha spiegato tante cose belle. E dimmi quali sono state le più belle? Quando abbiamo visto i film, quando ci ha fatto vedere i suoi libri, come quando li leggeva la sua mamma, e mi è piaciuto tutto. E tu viaggi spesso? Sì. Dove sei stata? A Napoli, in Calabria e altri tanti posti. Ti piace viaggiare? Sì, tantissimo. E come ti piace viaggiare principalmente? Con l'aereo, con la nave, in macchina? Ti piace andare a piedi? Mi piace andare col camper, con la nave e con l'aereo e col treno. A te piace viaggiare? Sì, tanto. E dove ti piace andare principalmente? In montagna, al mare, dove? Al mare tanto, in città anche. Quali sono i posti più belli che hai visto? In America, negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, a London e anche a Libia, da dei miei parenti. E cos'hai imparato oggi? Ho imparato come si deve viaggiare giustamente. Dimmi una delle regole, la più importante. di informarsi prima di viaggiare, di non buttare i rifiuti, di saper parlare la lingua, di provare cose nuove da mangiare. I bambini sono pronti, i nostri sono iperfortunati a poter viaggiare, a vivere già in paesi ricchi. Ricordiamoci che in altri paesi ci sono bambini che vivono in condizioni molto più povere e non hanno queste possibilità. Noi dovremmo sfruttarle al meglio, far confrontare i bambini e non occorre andare lontano. Per essere dei viaggiatori consapevoli e responsabili si possono fare anche delle piccole escursioni nei dintorni della propria città, di Trieste, visitare la Val Rosandra, il Carzo, l'Isola della Cona, Miramare. L'importante è farlo consapevolmente. Quindi raccogliere delle informazioni prima, proporle ai propri genitori, convincerli. E anche per questo a fine maggio pensavamo di fare un incontro pubblico con tutti i ragazzi che hanno partecipato a questi laboratori, coinvolgendo anche i loro genitori, in modo che i bambini stessi facciano da anello di congiunzione e siano loro da educare i propri genitori.